Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video, come al solito, io sono Gabri, io Birillo, oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido, vai Birillo, facci vedere, ha un liquido formidabile, preso dal svacco caffè, ricordiamo, marina di carara, moliciare, e la spezia, andiamo a trovare, allora si chiama Butter Stunt, con butter scritto un po' strano, tipo bastardo, con una donna con la mano sulla chiappa, una bella stampa sulla chiappa del culo, ora andiamo a farvi vedere questo liquidozzo che viene fornito 20 ml di aroma, ci va aggiunta la baseta, e chi ci vuole la nicotina, la nicotina, noi fumiamo a zero senza nicotina, ora andiamo a fare una prova di svapo, questo liquidozzo, Gabri si svaporà sul tubetto, si funziona un amiche, formidabile, e io sulla Wismac Luxotic, è lento a un 22, in single coil, schioppetto anche bene sul tubetto, burroso, burro, sopra si è uscito crema di burro, è della Seven Wonders, una buona marca di liquidozzi, distribuito sempre dall'avaporate, si, fa anche abbastanza fumo, che quanto gli dà, cremoso, no, si sono meno, perché, dice che è burro, crema di burro, sa di crema di burro, si è fedele, buono, bello dolce, non è sciapo, si sente bene, un bel liquidozzo, valido, lo consigliamo, lo consigliamo, per chi vuole svapare in crude, e tanta roba, dalla taberna dello svapo è tutto, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, e iscrivetevi al canale, e ricordatevi, chi non svapa in compagnia, o è il ladro, è la spia, ricordatevi che abbiamo il canale su Instagram e su Facebook, veniteci a trovare per vedere tutti i video che facciamo, ancora, tanti prodotti da fare vedere, sullo svapo, ragazzi, veniteci a seguire, ciao, ciao.